Musica Buongiorno a tutti alla nuova edizione dello specchio della vanità Oggi sabato 23 giugno avremo questa splendida occasione di conoscere nuovi artisti, nuove artiste in ambiti diversi della creatività E qui questa mostra mercato dell'artigianato di qualità, il mondo magico ed affascinante della moda femminile E dell'accessorio nelle realizzazioni di diversi creativi Qua troviamo Marina Ares, Aromica Parfan, Giuseppina Calosso, Paola Galfione, Renata Libois, Maria Luisa Gambierasio, Gioga Glass, Lorenzo Patrucco, Elena Pernolandi, Mimi Petitti, Francesca Poli, Silvia Porino, Gisella Tamagno, Laura Elda Trombetta E quindi andiamo a scoprire queste magnifiche creazioni Siamo nei giardini di Casa Zuccala Adesso andiamo a scoprire quali sono le novità di questa nuova edizione dello specchio della vanità Andiamo Mi chiamo José García, sono nato a Bilbao Dopo sono andato a Edimburgo, in Scozia E lì mi sono laureato in disegno del vetro E la prima volta che ho soffiato il vetro Mi sono reso conto che è la cosa che volevo fare per il resto della mia vita Una volta passata questa etapa qua Sono andato a Murano Per la storia di Murano E lì ho lavorato con un maestro bravissimo E lì ho imparato un po' a vedere come era il vetro soffiato Dopodiché sono venuto a Torino Perché Torino è una città che mi ricorda un po' la mia città di Bilbao Non architettonicamente ma un po' culturale Perché era una città molto industriale E a Torino mi trovo molto bene E il mio laboratorio si trova in centro a Torino Nella via Mazzini numero 50 interno cortile La tecnica che uso è una tecnica veneziana Che è come se fanno le famosissime murrine E questa tecnica l'hanno sviluppato nel 1500 Però noi le facciamo per il secolo XXI Perciò la facciamo un po' più moderna, contemporanea Adesso le cose che facciamo di più sono cose per le donne Che sono quelle che spendono di più E facciamo queste famosissime Molto particolari per le soffiate Che sono molto leggeri perché sono vuote all'interno E sono anche resistenti perché il vetro è temprato Cosa vuol dire che noi lo soffiamo a 1100 gradi E per portarlo a temperatura ambiente Lo mettiamo in un altro forno che si chiama muffola E si mette più o meno 15 ore a rifredarsi E questo fa che il vetro non ci sia tensione E il vetro è robusto Altre cose che facciamo sono queste tipologie di bicchieri Però le possiamo fare di tanti tipi colori Sempre tutti questi articoli le firmo E si possono lavare in lavastoviglie Un'altra cosa che va tantissimo Soprattutto per le persone che piacciono cucinare E qua in Italia piace cucinare tantissimo Sono queste salsiere Che sono molto leghiere E avvina tantissimo E dà molto colore sul tavolo Come va ad esempio questa che ho addosso Che è sempre vetro Anche se qualcuno mi dice che sembra tipo legno E questo è particolare perché è sabbiato Dopo abbiamo anche la colonna tipica Con la famosissima filigrana Questa qua nera Facciamo orecchini, bracciali, lampadari Però qua in casa Zuccala Abbiamo portato delle cose più pratiche Grazie a tutti